Prima dobbiamo provare tutte le attrazioni che ci sono nel parco! Wow, è troppo forte! Aumenta la potenza! Sì, forse è meglio non esagerare. Sei pronta? Ancora, ancora! E qualcuno almeno apprezza le ostri. Io non credo che ce la farò! Allora salteremo insieme. Pronta? Tutto bene? Ancora, ancora! Giornata grandiosa! Ci vediamo domani! È stato bello! A stamagnana! Sì, a domani! Buona serata! Ci si vede! È un carico completo! Dì al capo che siamo pronti! Eliminatela! Sono sfinita! Cuccioli! Sono a casa! Cuccioli! Che cosa? Stiamo scherzando! Ehi, piccoli! Ok, piccoli! Adesso dovete aiutarmi! Vi sto pregando! No, non così! Ma siete carini! Promettetemi che collaborerete finché gli altri non tornano! Oh, e a proposito degli altri, chissà se sono atterrati! Spero che si sia goduta il volo! Io no, di certo! Se non metti giù quella fotocamera, ti giuro che la rompo! È tua! Non importa! Calma, ragazze! Siete stanche! Ma tra poco saremo in un bell'hotel per riposarci! Hola, la familia de Robertos! Bienvenidos en Costa Rica! Yo soy Juan! Capisco, volo lungo! Ma vi renderò piacevole la trasferta di quattro ore! Quattro ore! Papà! Devo avere sbagliato a calcolare la distanza dell'hotel! Non è che per caso in macchina c'è il wifi? Ahahahah!